C'è il Filippo allora uccisi 40 anni di storia fanese con la sbaragliata della festa dei quattro cantoni? Sì, da 50 anni si faceva la festa dei quattro cantoni, una manifestazione storica della nostra città e due giorni prima dell'inizio dell'evento, qui c'è il programma pubblicizzato ovunque nella nostra città e non solo, l'assessore al turismo dice che non si farà più. Quindi io chiedo tramite un'interpellanza il motivo per il quale non si farà più e purtroppo denoto ancora una volta la scarsa programmazione degli eventi della nostra città che comunque fungono da accoglienza turistica. Io dico per quale motivo a due giorni dall'evento l'assessore esce fuori dicendo che non si fa una manifestazione del genere addirittura definendola sagra di paese. Bene, le sagre di paese sono qualcos'altro caro assessore al turismo, quindi lei deve spiegare se lo vuole fare a tempo pieno l'assessore oppure se vorrà continuare a farlo part time con i danni che vediamo. E forse mi chiedo se è forse il caso di lasciare posto a un consigliere comunale che si sta dando tanto da fare come la Barbara Brunori perché è da tanto che gira la voce di un suo passaggio come assessore al turismo. E forse è il caso di lasciargli il testimone visto che si dà da fare molto di più rispetto all'assessore al turismo della nostra città che pensa a tutto tranne che agli eventi della nostra città. Che cosa servirebbe in un ipotetico futuro? Sicuramente abbiamo bisogno di programmazione mesi e mesi prima, abbiamo bisogno di dare la certezza a chi organizzerà questi eventi, quindi tramite bandi nel caso in cui il comune non organizzi da solo l'evento, quindi bandi dove si definiscono già un anno prima i soldi che ci saranno. Vediamo il Fano Jazz e anche altre manifestazioni che sono calendarizzate e strutturate in questo modo e onestamente bisognerebbe iniziare a promuovere qualche mese prima l'evento in tutte le fiere, diciamo comunque con un programma che esce mesi prima e non due giorni prima si dice che non ci sarà un evento storico della nostra città.